Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi vi mostreremo tre chicche, davvero una più bella dell'altra, tutte diverse tra loro, ognuna con una sua particolarità, che sia il materiale o che siano i disegni riportati, qualcosa da poter utilizzare, qualcosa di davvero molto pratico, contenuto all'interno di un set in modo tale da non rischiare ovviamente mai di perderli. Cosa stiamo parlando? Di set uncinetti, ma come vi dicevo non i soliti. Analizziamoli nel dettaglio. Il primo set è il set uncinetto voody, perché? Ovviamente perché il materiale di cui è composto il manico è il legno. Vediamo però singolarmente quello che c'è all'interno di questa pratica confezione. Il set è composto da otto uncinetti con il manico in legno dalla forma piatta. Eccolo qui, lo potete vedere nel dettaglio, è proprio insomma molto piatto, utile davvero per un'ottima impugnatura. Perfetto per la lavorazione soprattutto a coltello. Eccolo qui. E ci sono all'interno ben otto numeri, vale a dire il due e mezzo, il tre, il tre e mezzo, il quattro, quattro e mezzo, cinque, cinque e mezzo e sei. E questi super colorati e super fantasiosi sono, non potevano d'altronde essere chiamati in un altro modo, il set uncinetto Picasso, anche essi contenuti in questa pratica confezione. Parliamo in questo caso invece di un set di nove uncinetti, tutti colorati, li vedete qui, tutti diversi, l'uno dall'altro in modo tale che possiate davvero distinguerli. Qui questa volta invece parliamo di un manico in gomma rigida, davvero però perfetto anche qui per un'ottima impugnatura e credetemi davvero molto comodi. Poi insomma sono davvero molto belli da vedere. E i numeri che potrete trovare all'interno di questa confezione sono il numero due, eccolo qui, questi meritano senz'altro di essere visti, il due e mezzo, il numero tre, il tre e mezzo, il quattro, il quattro e mezzo, il cinque, cinque e mezzo e infine il numero sei. E parliamo invece del set uncinetti Pollock, anche questi contenuti all'interno della pratica confezione chiusa con lo strappo. Ne troviamo nove uncinetti e anche qui con la gomma rigida, un'impugnatura davvero ottima anche qui e con svariate forme e colori. Vediamole tutte un attimo nel dettaglio. Troverete all'interno della confezione il numero due, eccolo qui, un simpatico due e mezzo, il numero tre, il tre e mezzo, il numero quattro, il quattro e mezzo. Come potete vedere in questi cambia addirittura anche il colore dell'uncinetto in alluminio presente all'interno. Poi parliamo del numero cinque invece, il cinque e mezzo e infine del coloratissimo numero sei. Ve l'avevamo promesso, sono davvero molto particolari, soprattutto quelli in legno possono essere utilizzati magari più per chi utilizza la tecnica coltello. Gli altri due invece hanno un'impugnatura diversa. Sono però allo stesso tempo gli ultimi due che abbiamo visto molto decorativi, molto particolari, molto belli e anche scenici. Sarà ancora più piacevole lavorare e magari anche simulare la vostra creatività e la vostra fantasia. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli, su tutte le nostre rubriche, su tutto il mondo Tessiland. Noi ci vediamo al prossimo prodotto. Ciao! 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 Ciao!